Palco TV, siamo qui, Occhi Blu, in Piazza della Borsa. Piazza della Borsa, Trieste. Stiamo parlando con? Fulvia. Ciao Fulvia. Allora, domandona, io adesso anche mi giro di qua. Scusa, il tuo pregio, secondo tutti? Qual è il pregio di Fulvia? La pazienza. Pazienza, hanno detto la pazienza. I miei dipendenti hanno detto la pazienza. Sei d'accordo? Credo di no. Sincerità. Ah, è vero. Allora, sincerità può essere abbinata alla pazienza? Assolutamente, direi di sì. E bravo, e zen? Lo stai chiedendo ai miei dipendenti. È bellissimo. Bellissimo. Mi metti in difficoltà. Abbiamo deciso questa cosa, che il tuo pregio è la pazienza e la sincerità. Diremo più di tutto la sincerità. Sincerità vince sulla pazienza 2 a 1. 2 a 1. Va bene, può bastare. Grazie, grazie. Io adesso vado in giro. Chiedo agli amici, chiedo anche il tuo loro. Chiedi a loro, chiedi a loro. Ma dopo chiedo, dopo chiedo, vedrai.